e amici miei e pokemon art è bello figo quello lì né e allora amico mio quindi abbiamo visto che questa espansione nuova ho comprato un sacco di pacchetti su 15 pacchetti una sola full art insomma sono pochine e allora insistiamo nella compara anche perché vanno giù alla 5 euro amici 5 euro questi pacchettini nell'edicola e non se ne trovano amico mio io sapete che ho sempre un po' trovato ne compro veramente tante ma insomma non ve n'è cerchiamo bene e apriamo bene e con voi volevo tentare un ennesimo disperato tentativo perché qui stiamo parlando di 15 16 anche di più pacchetti comprati con una sola insomma apriamo bene ma anche un po' ingazzosi hanno ridotto notevolmente il numero delle carte bombe pancia ah intravedo qualcos'ella forse finalmente snorant cast for quelli di alola belli van e light disegni belli che dire ma tanti doppioni qui vedo qualcosa mood break e amico con tonno ed eccolo finalmente una bella gx come si deve vedete oh di 5 band graphics e ne abbiamo trovata finalmente una e sono andato in un'altra edicola forse era l'edicolella sbagliata sfigatella devo dire queste gx veramente belle like and roll e tra l'altro potete asciugarvelo sul 3ds come personaggio c'ho i codicelli due da chi li vuole io non li uso ne usano solo due da regalare a proposito di codicelli e il codicello e amico mio ne apriamo un altro finalmente abbiamo interrotto il filotto negativo con tonno con tonno e allora amico mio oh certo che questo like and rock è veramente bello figo come quello che ci stiamo ascoltando apriamo bene con tonno con tonno con tonno e tutti sanno che mangio patta patta tutti 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 sanno che mangio patta tutti 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 sanno che mangio patta con tonno di nuovo litwig lomicino glingar pipe strellettro di nuovo van light ne abbiamo a lott di nuovo mood bright somarello salandit bello questo disegno è un bel reverse pangoro ci sono veramente dei reverse evoluzione del panda che sono molto belli è il mitico sharpedo con cui vi fate il giro delle isole l'energella metang banda scelta spazza campo un sacco di strumentelli nuovi e codicello qui c'è la pubblicità mi dovrebbero dare un pochino di sghei questi qua del tubo però amico mio allora sentiamoci quest'altra che è un'altra bella anch'io sono vucumbra de carte qua tra un po' vucumbra de carte poca ne compriamo a lott e se ne trovano pochino in questa espansione guardiani nascenti rising guardians amico mio e apriamo quest'altro compra pacchetto pacchetto compra pacchetto spacchetta il pacchetto compra compra a lott of pokemon card e ne troviamo poche ma oggi ci è andata bene e amico mio vediamo il terzo pacchettello quindi ho speso una quindici così quasi giornaliero bel spurt gilgar di nuovo geodut patrott castorello nutria nutria come nella martesana lotteria energia e amico oggi ci è andata deluxe guardate finalmente drampa gix o gx come dice qualcuno ma guardate amici miei bello ruvido e che disegno finalmente amici miei oh abbiamo tolto il filotto negativo 5 band graphics 142 di 145 che dopo un 15 16 pacchetti con 0 trovate per questo abbiamo trollato un po' ed ecco finalmente drampa gix comprati i pokemon 5 euro e con questa e questa amico mio matone 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti